C'è stata una live disponibile solo in Giappone grazie ai capoccioni di Level 5 riguardo Yokai Watch, la serie, quello che c'è stato, il futuro e anche un nuovo gioco e io ho già visto di cosa si tratta ma voglio farlo vedere anche a voi perché la live appunto non essendo disponibile al di fuori del Giappone l'ho vista, per modo di dire, con un server VPN per fortuna erano 500 Mega gratis e con YouTube 500 Mega si finiscono in due minuti ho visto qualcosina però hanno pubblicato a parte appunto il trailer del nuovo gioco e rimarrete sorpresi, molto sorpresi, non piacevolmente comunque andiamo a vedere e tu dici, ma finché è Yokai Watch aspetta, aspetta, morriva sembra Yokai Watch 1, giusto? sembra è Yokai Watch 1, infatti aspetta, aspetta, morriva quella bella domani esce Yokai Watch 1 per telefono cellulare io non speravo mai mai che dicessero oh ragazzi pubblichiamo Yokai Watch 4 in occidente non me lo aspettavo per niente ma Yokai Watch 2 dico cavolo tanto che voglio portare la serie almeno facciamole live su quello per Switch è passato ormai più di un anno da quando hanno annunciato Yokai Watch 1 per Switch ci starà anche il 2 no no ehm bella ehm grandi sì 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 sì